eccoci qua in volo a buona sola qua abbiamo sempre un solito problemino comando vabbè lo gioco così tanto lavoro vuole allora qui ci dovrebbe essere la termica di servizio vediamo se la troviamo eccola qua eccoci qua ecco il decollo vediamo se riusciamo a salire un po siamo a 4.92 viene anche proprio qua vediamo a destra 5.10 5.20 5.30 5.40 direi che è più forte da questo lato è più forte da questo lato è più forte da questo lato direi che siamo arrivati in cima proviamo ad andare verso la rossola visto che qua si sale magari facciamo un altro giro tanto chi ti acquata in più non fa mai male 5.60 5.61 qui c'è Renato e Alberto no 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 è Renato è Antonio La rossola ci avviamo a spiaggia con la sola il sarnato dov'è finito qui dovremo prendere la scendenza della rossa ecco il levanto ecco il rossa ecco il rossa ecco il rossa ecco qua buona sola pensavo meglio qua come scendenza tutto sommato non è che salga poi tanto ecco 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 ah mi sa che Renato è atterrato vedo una vela rossa ecco l'al decollo sta a via una pochia sarà Denis? si, sembra lui tanti borghi piccoli trazioncine, paesini sparsi per la vallata la chiesa in mezzo dobbiamo andare a vedere da questo lato è un campo da tennis la chiesa in mezzo 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 il campo da tennis la piscina si può fare sia sport aquatici che su terra andiamo un po' fronte mare a vedere a vedere la chiesa in mezzo la manica a vento io non la vedo andiamo a 37 da capire c'è la chiesa in mezzo la chiesa in mezzo la chiesa in mezzo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.